In queste ore iniziano a girare notizie distorte su volontari e attività da svolgere. I volontari spontanei, soprattutto giovani, sono stati fondamentali per pulire e aiutare i residenti. Così il sindaco Pizzarotti, che nelle ultime ore aveva comunicato novità sul fronte organizzativo per i giovani angeli del fango. I lavori da svolgere, aveva aggiunto il sindaco, visto il miglioramento generale, diminuiscono ed è quindi necessario organizzarsi ancora meglio. Oggi e domani sono previsti tanti volontari e tanti aiuti, ma è molto importante per essere più efficaci e per lavorare in sicurezza, lasciarsi guidare dagli addetti della protezione civile. Sono predisposti molti punti di raccolta e smistamento, ma è importante non rimanere in aree in cui transitano mezzi di lavoro meccanici o pesanti. E infine un grazie. Grazie per quello che avete fatto e spero che l'energia di questi giorni non si disperda. La situazione è migliorata, però comunque si tratta di un lavoro che prenderà dei mesi, se non di più. Nella vita che fai? Studio al liceo scientifico Maria Luigia e va bene così, dai. Perché hai deciso di unirti a questi ragazzi? Perché comunque dare una mano è sempre bello e è bello anche vedere giovani come noi, uniti a persone anche un po' più anziane, che dare una mano è sempre importante comunque. Vi hanno consentito di lavorare per il meglio, vi hanno dato attrezzature, stivali, pali? Ma guarda, gli stivali me li sono comprati io e comunque le attrezzature le ho trovate, non è stato facile perché all'inizio non ci lasciavano neanche entrare, siccome doveva arrivare l'esercito. Poi alla fine comunque siamo entrati e comunque abbiamo lavorato. Tu in particolare e i tuoi amici che cosa avete fatto, dove siete intervenuti? Siamo intervenuti qui in quartiere Montanara comunque a dare una mano, a liberare comunque i garage, a portare via attrezzi e robe così e comunque a spalare il fango che era rimasto residuo dallo straripamento. Quando siete andati nelle case avete aiutato le persone che hanno subito tanti danni, come siete stati accolti, cosa vi hanno detto? Ma guarda, ci sono stati carinissimi, ci hanno ringraziati fino alla morte, tutti molto gentili e cordiali, comunque è stata bella, bella esperienza. Grazie.